Quando pietre e silenzio si aggiungono alla forza, i luoghi diventano arte. Quando ingegno e semplicità incontrano la pazienza, il cibo diventa un'esperienza. Il cibo diventa un'esperienza. Quando terra e acqua segnano il cammino, gli elementi diventano magia. Quando mente e sguardo incontrano la grandezza, la natura diventa energia. Quando mente e sguardo incontrano la pazienza, il cibo diventa un'esperienza. Il cibo diventa un'esperienza. Il cibo diventa un'esperienza. Quando forza, pazienza, cammino e bellezza si incontrano, diventano Abruzzo. Il cibo diventa un'esperienza. Il cibo diventa un'esperienza. Il cibo diventa un'esperienza. Grazie a tutti.